Non arriveremo mai! Ma è proprio la tua speranza Lo voglio! È lui, il mio futuro! È lui! È lui! Ciao a tutti ragazzi, io sono Machia Sono sovraesposta? No, sì, forse Ciao a tutti ragazzi, io sono Machia E benvenuti in questo nuovo video Oggi sono con Stefania e Giovanni Che molto simpatici Sono già andati là sotto Oggi visiteremo alcune installazioni della Fiumara d'Arte Cos'è la Fiumara d'Arte? Sostanzialmente è un museo a cielo aperto Tra gli appunti che ho preso leggiamo che praticamente le installazioni artistiche sono state realizzate da diversi artisti e ripercorrono idealmente il tracciato di un antico fiume che scorreva tra i monti in Ebrodi per circa un 21 km Poco fa avete visto una piramide alle mie spalle Eccola qui Non siamo in Egitto Siamo in Sicilia Magari questa non la metto Siamo alla piramide del 38esimo Parallelo Quanto caldo c'è? Porca d*****a Si muore di caldo e siamo su un pizzo di una cassa di montagna dove c'è il vento Fortunatamente Come quanto è bello Giovanni che arriva così Giovanni Massaro come non l'avete mai visto Bravo Giovi Bravo Come la terra Piatta Tanto sei contento di essere qui Giovanni Invece di essere a casa tua Ora ti lasciamo qua ce ne andiamo con la tua macchina Ci sono le isole Olie si vedono almeno noi le vediamo ma credo che in video non si veda un tubo però fidatevi di me che sono lì ve lo giuro non avrei motivo di inventarmi queste cose take on sembra un alveare che si veda un po' di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però, dato che la nostra meta più ambita della giornata è il labirinto d'Arianna, abbiamo deciso di saltare queste due installazioni per andare al labirinto, che è decisamente più lontano. E quindi, insomma, c'è bisogno di fare strada. Ragazzi, questa è una delle opere che stiamo saltando, però la vediamo un po' così da lontano. Ora non la vediamo più. Ora sì. Non lo so Giovanni, volevi entrare direttamente là dentro? Vabbè, scusa, mi abbiamo risparmiato 20 metri a più. 20 metri? C'è, sei impiccato qua davanti. Eh, per questo è precisione. Osserviamo Stefania che se ne va con la mia fotocamera, già è entrata, e per i fatti suoi. Va bene. Ragazzi, come si è potuto capire, siamo arrivati al labirinto d'Arianna. È immenso, io l'avevo visto in foto, ma vederlo dal vivo è un'altra cosa. Le pareti sono ruvide. Oh, ci sono le nuvole pannose. Non c'è ombre a vento, ti stai. Rimani lì Giovanni? Ora ho pagato il pedaglio. Una mano. Fino a quando vedevo arrivare Siena per fare questo s*****o. Dove vuoi tu? Sorridi. Sorridi il c*****o. Che atletismo, signori. Guardate il gesto atletico. Porca tr*****o. Sembra di Spiderman. Come ci si sente? Malissimo, sto tremando. Guarda verso su. Pensavo di non farcela, pensavo di morire qui, con questa vagina gigante. Ora lo faccio io, dai. E' quando? Buonasera. E' quando? Se queste foto non sono note belle, Chiara, io ti tolgo la vita. Da quant'è che stiamo camminando? Ma è secondo me un quarto d'ora. Maledetto. Più cammini, più diventa, più aumentano i vortici. I vortici. E' una spirale senza fine. E quindi rimaniamo qua? Resteremo qua per sempre. Questo labirinto è maledetto. Siamo arrivati alla fine di questo labirinto. E non dovremmo ripetere le scale. Ma dai, ma che c***o? Ci sono le scale. Sono su Damburga. Nessi mille chilometri. E ci sono le scale. Non sai che era lì, Chiara? Allora, Stefania ha trovato un messaggio importante per l'umanità. In mezzo a tutti questi pensieri, ce n'è uno che conta a fedi tutti. La fame nel mondo. Ma non una fame qualsiasi. La fame di schifezze. Ma che è? Un kinder delizio. Un kinder delizio. Un kinder cereali. Mi hanno lanciato sul muretto che non riuscivo a salire da sola. Allora, questo muretto da sotto sembra più largo. Quindi mi sembrava anche più semplice poterci camminare su. Invece una volta che sei qua sopra ti rendi conto che è stretto. Quindi io che sono un po' impegnita, è un problema. Questa installazione riprende esattamente tutti i tornanti che abbiamo fatto. Se puoi arrivare alla piramide, se puoi arrivare qua. Quindi non mi parlate di viazio interiore dell'anima perché in realtà si ispira a questi tornanti dal cavolo. Abbiamo fatto 520 metri. Alla faccia. Alla media di 6 km all'ora. Ma non aveva detto che essendo in salita le veniva meglio. E' stretto. No, è stretto. Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Dai! Non solo la mano, mi fermo. Aiuto! Vai, 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 vai! Oh! Vedi che c'è? E ora! Scena questa cosa epica! Scena questa cosa epica! Scena questa cosa epica! Non filma questa scena! Scena questa cosa! Oh! 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 Oh!